Controllare la proliferazione delle cellule tumorali agendo sul metabolismo, i ricercatori dell'Università di Padova al termine di uno studio hanno pubblicato su un'importante rivista scientifica i risultati del loro lavoro che ha riguardato la via di segnalazione mediata di una molecola chiamata VNT, che potrebbe essere alla base del controllo della proliferazione cellulare. In sostanza, secondo lo studio, si potrebbe agire sulla proliferazione delle cellule tumorali andando a modificare il metabolismo mitocondriale. All'interno di tutte le cellule del nostro organismo ci sono infatti degli organelli mitocondri che hanno il compito di produrre una molecola che fornisce energia alle cellule per le loro attività, si chiama ATP. Tra le attività regolate ce n'è una particolarmente importante ed è la via di segnalazione mediata della molecola VNT, regolata dallo stesso ATP. Questa via è alla base di una serie di reazioni implicate anche nella proliferazione cellulare, un processo importante sia nello sviluppo degli embrioni sia nella formazione dei tumori. In questo lavoro, ha spiegato il professor Luigi Leanza del Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova, coordinatore della ricerca che è stata svolta in collaborazione con altri gruppi dell'Ateneo Patavino, abbiamo dimostrato che riducendo la produzione dell'ATP a livello dei mitocondri senza causare problemi alla vitalità delle cellule è possibile attenuare notevolmente la via mediata da VNT sia in vitro su delle cellule tumorali, come ad esempio sull'adenocarcinoma del colon, sia in vivo in modelli di zebrafish. In questo modo, ha spiegato ancora il ricercatore, abbiamo osservato che modulando il metabolismo dei mitocondri è possibile ridurre la via mediata da VNT e quindi potenzialmente la crescita del tumore, dando una nuova prospettiva di cura di vari tumori in cui questa via di segnalazione è molto attiva. Le implicazioni quindi di questa scoperta, che per la prima volta collega il metabolismo dei mitocondri a una delle più importanti vie di segnalazione intracellulare, sono molteplici e promettenti in diversi campi, dai tumori alle patologie del sistema nervoso centrale.